ciao amici di napolità buona vigilia di natale a tutti io sono completamente svuotato come vedete sono un po come il napoli come giocatori del napoli su senza filpa mezze maniche ma comunque ribadisco gli auguri di felice vigilia buona vigilia a tutti e voglio dirvi una cosa ovviamente io sorrido perché ringraziando al cielo noi siamo con la pancia piena però ci sono tanti motivi per non essere contenti però noi dobbiamo anche essere noi stessi e dobbiamo ritorno dobbiamo metterci a posto e dobbiamo partire dalla partita di gioco di parole qua ma prima di iniziare vi voglio dire grazie grazie mille ai tantissimi dire addirittura eravamo più di 800 persone collegate durante la live post match per qualcuno che sarebbe persa potete andarla ritrovare ovviamente nel canale eravamo io e silvia de martino in un momento un po complicato a caldissimo dopo la partita ma soprattutto vi devo dare una notizia perché sono partiti da oggi gli abbonamenti di napolità potete abbonarvi al canale trovate sotto nei link in descrizione il modo per abbonarvi ci sono tanti livelli andate a leggere quale il livello che vi piace e vi voglio anche però sottolineare la cosa che questi questo sostegno per noi è fondamentale soprattutto perché vi legate in modo importante alla famiglia di napolità ma soprattutto tutto quello che entra in questo canale anche quelle donazioni che voi fate saranno interamente messe nel canale è ovvio tutto quello che entrerà io più di metterci come avete visto io lavoro 24 ore al giorno per napolità per voi per essere qui ogni giorno a farvi i contenuti alla vigilia di natale a natale santo stefano sempre ma tutto quello che entra sarà riutilizzato per prendere per esempio ospiti per andare a creare upgrade importanti e gli ospiti che noi andremo a prendere io li porto per voi perché potete farvi fargli domande potete colloquiare con loro e avendo ovviamente la possibilità di essere abbonati avete una corsia preferenziale oltre a tantissimi contenuti esclusivi e tantissime cose che potrete fare ci sono veramente dei livelli interessanti andatevi andate a controllare non è che vi devo nascondere niente noi ragazzi lo sapete che alcuni ospiti anche quelli lì importanti si prendono un gettone quindi dobbiamo anche provare in qualche modo ad ammortizzare perché per il resto abbiamo messo tutto io e alfredo in pieno per cercare di far salire sempre il livello di questo canale che è il mio e di alfredo alla fine vostro perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo per voi ma ora iniziamo a quello che dobbiamo dire ripeto io sono svuotato voi oggi forse vi aspettavate un contenuto urlante di quelli che si mangiano la telecamera tutti fate no ma napoletano non è così fate che quei contenuti li trovate se andate in questo momento proprio se andate in giro in giro trovate in giro o ciro mertens facciamo stare che andate in giro trovate tutti gli urlanti e ma qua io non urlo vedete sono contento perché c'ho la pancia piena perché voglio anche dire una cosa ragazzi miei io mi presento come tifoso del napoli prima di tutto poi su stasapengo poi su match analyst e tutto il resto ma io su tifoso del napoli se devo portare avanti questa mia idea quando vado a fare un'analisi ovviamente al 99 per cento ve lo posso assicurare sono onestissimo perché devo rispettarmi all'un per cento ragazzi devo tener fede anche a quello che è il mio cuore perché per me napoli e mamma ve l'ho detto un sacco di volte quindi involontariamente quell'un per cento di napoli e mamma io lo metto fuori è un po di protezione ce la mette come la voglio mettere in questo video la protezione ma io voglio anche dire che per chi non è iscritto addirittura al canale vi invito a iscrivervi al canale ad attivare la campanella delle notifiche e a mettere un like a questo video che per me è fondamentale sempre per andare nell'algoritmo e poi iscrivetevi a tutti i nostri social pieni zeppi di contenuti e soprattutto tutte notizie in tempo reali reali e ali sono una cosa reale un'altra scusatemi ma la lingua oggi va un po avvento perché anche un po misto a nervosismo è perché poi voglio essere però sono anche un po nervoso per quello che sta succedendo alla e vi stavo dicendo non sarà un contenuto urlante ma andremo a cercare di trovare qualche soluzione ovviamente la butto lì perché poi la cosa importante la voglio sentire da voi nei commenti voglio sapere da voi commenti voglio avere da voi ricevere da voi commenti solo con soluzioni per piacere non scrivetemi commenti ma ad esempio qualcuno vi potrebbe chiedere scrivete la vostra il vostro sentiment in questo momento per avere più commenti più like no a me non interessa io voglio sapere proprio da voi quale può essere la soluzione per rimettere a posto la stagione del napoli perché dai nostri commenti potrebbero uscire anche cose molto molto interessanti chi lo sa lo legge qualcuno della società e accendiamo una lampadina e poi può succedere quindi voglio da voi un'eventuale soluzione per questo momento un po particolare poi alla fine del video vi faccio vedere una cosa simpatica non è per creare alibi al napoli però vi voglio vi voglio parlare di un'altra squadra in questo momento per me è interessante quel passaggio vi dico la mia ragazzi momento del napole particolare ieri è stata una partita parliamoci chiaro il napoli addirittura dice che il l'arbitragio è stato iniquo e andate a vedere cosa significa iniquo comunque non proprio chiaro evidente iniquo è una parola usata da ugolini in sky a nome della società dice la società ha detto questo quindi lo teniamo per buono ma al di là di quella che è la gestione dei cartellini perché la roma poi sappiamo come gioca e sei tu che non ci devi cascare caro napoli perché loro fanno questo e allora noi siamo stati un po polletti diciamo così no ci siamo fatti trasportare da questo modo loro di innervosire di cambiare completamente una partita di calcio in una partita di calcio fiorentino non so se qualcuno conosce il calcio fiorentino ma da vedere una lotta per la prima lotta con il pallone che cosa abbiamo visto ieri oltre questo una squadra che non sa realmente cosa fare dobbiamo essere chiaro dobbiamo essere sinceri e come vi ho detto napole mamma però calma che ci sono poche idee ci sono dei calciatori che purtroppo non stanno giocando bene uno su tutti per esempio zamba chissà anche l'anno scorso a volte scompariva ma quest'anno veramente sta giocando non molto bene potrei dirvi anche esempio di quara che ieri non c'era dio simen che era nervosissimo dio simen parliamone no perché è arrivato il il contratto e le stesse persone che dicevano ogni giorno ogni giorno in modo stucchevole e ma dice sempre che rinnova simen ma quando lo rinnova e ma dice sempre che rinnova simen quando lo rinnova arriva rinnova e vabbè ma che l'ha rinnovato a fare quello se lo vende poi giù però mettetevi d'accordo mettetevi d'accordo perché lo so lo so da cosa viene ragazzi questa cosa viene dal cavalcamento dal cavalcare l'onda al cavalcamento si può dire un neologismo non lo so scusatemi se ho inventato dal cavalcare l'onda perché si debbi andare a mettere il dito nella piaga e ci sono dei miei colleghi che faccio gli piace proprio mettere il dito nella piaga io non vorrei parlare solo di calcio però giustamente andiamo avanti picto non è che ha giocato bene ieri e si è fatto in nervosire si è fatto trasportare in quella ragnatela di nervosismo poi ipolitano è inaccettabile comportamenti ipolitano è inaccettabile perché per il bene della squadra per il bene noi tifosi non deve assolutamente reagire in quel mondo mai mai non si fa non si fa e questa cosa mi dispiace tanto quindi vediamo che c'è tantissima confusione non vi sto a elencare i problemi ma mi vado a cimentare il butto in una in una non previsione in una mia idea secondo me già da oggi bisogna guardarsi nell'anima viene arrivato un commento molto interessante di spumi questo questo amico che è legato a tutti i nostri canali c'è sul gruppo telegrama c'è dappertutto e ci dice ma se ti facesse un ritiro ma non un punitivo perché ritiro punitivo non serve ma un ritiro proprio per guardarci un po tutti nell'anima per far sì che si guardino un po tutti nella giocatore allenatore presidente direttore sportivo michele e tutti secondo me potrebbe essere una cosa così proprio per uscire nudi vedete come sto io oggi nudo da tutto ognuno dice la sua io non so scontento me ne voglio andare io sto benissimo però voglio giocare così l'allenatore io voglio fare il 4 3 3 ma non mi trovo non lo so fare il presidente ho sbagliato tutto però voglio far voglio prendere questo voglio prendere a tizio voglio prendere secondo me c'è bisogno proprio in questo periodo in questo momento di guardarsi nell'anima facciamo così potrebbe essere un buon consiglio un buon consiglio secondo me è un passaggio in avanti poi andiamo a vedere che piove sul bagnato perché si fa malenata ma addirittura probabile sei settimane di stop problema alla clavicola tecnicamente non ve lo so spiegare ma lo trovate per esempio sul nostro instagram sul social dove c'è scritto proprio tutto ma anche lo bot che da una parte dicono che rientra subito perché ha un problema all'anca cioè non ho all'anca scusatemi all'addome vabbè ma lo leggete su social di instagram di napolità e dovrebbe chi dice che rientra per monza e chi dice che ci vogliono due tre settimane comunque come vedete piove sul bagnato e dobbiamo con calma e serenità uscire da questo nome che è duro ragazzi è duro io cerco di andare a trovare il buono in questa partita di ieri mi potete chiamare pazzo eh sì forse lo sono però a volte dalle sconfitte si può ripartire a bomba ieri si è toccato il punto più basso di questa stagione perché io non volevo caricarla sta partita io nel pre partita ho detto anche ragazzi ma con tranquillità non andiamo con una pressione altissima lì se si vince si vince se si pareggia bene se si perde vabbè è presto diciamo che non è proprio così però prendiamo il buono ragazzi questo è il punto più basso da qui si può solo andare in avanti e si può solo andare su e allora partiamo da questa sconfitta e do un consiglio anche a de laurentis di fare usate ma non ho capito perché io ho una sinusite cronica e perdonatemi però ogni tanto io do un consiglio al de laurenti di fare quello che ha fatto due anni fa non sentire tifosi non non andare troppo dietro a quelle a quella che la voce popolare perché non lo ha fatto neanche due anni fa quando ci ha proprio tolto tutti i nostri eroi culibali insigne mertens fabian gulam e tutti gli altri e ha preso calciatori totalmente diversi presidente il momento di fare la stessa cosa lo hai detto a gennaio che lo fai lo hai detto attraverso il corrido dello sport lo hai detto su rai 1 fal fal è arrivato il momento deve fare devi fare quello perché oramai quello che è stato fatto è stato fatto in modo errato ormai è chiaro ed evidente non dobbiamo ribadirlo se no vado contro a quello che diceva ora è il momento di fare quello che hai fatto due anni fa faccia a faccia gli scontenti vanno via quelli che sono pronti ad abbracciare a difendere quello scudetto che alla fine se non lo se non lo consacri allora veramente era di spalletti cioè voi vi siete trovati lì per caso io non credo però vediamo chi vuole chi vuole restare questa quadra e dare il massimo e difendere quella cosa che hanno in petto ma se non vanno via e prendiamo giocatori più pronti giocatori che hanno voglia di mettersi musso e farsi vedere e hanno voglia di sposare la causa napoli che non è che poi puoi trovare campioni a gennaio però puoi trovare i giocatori che sono pronti a dare l'anima quello che hanno fatto questi la stagione passata questo è un po un contenuto particolare però fatemi sapere se siete d'accordo con me se potrebbe essere questa la soluzione è per piacere non scrivete ma è colpa di questo è colpa di quella ma cercate di scrivere le vostre soluzioni vediamo se possiamo dare una mano realmente a questo però vi voglio far vedere questa cosa chiudiamo così questo è il celsi vedete questa slide speso tutti questi soldi nel 2023 questa è la sua attuale classifica appena perso in casa questa è la partita di oggi presidente ha speso tutto perché uno che ha tantissimi soldi presidente del celsi però vedete che non sempre i soldi i giocatori forti 130 milioni a giocatori ti portano poi a vincere quindi con calma con serenità non vogliamo per forza distruggere quello che è stato fatto attraverso il ragionamento che al di là dei soldi delle spese compra questo compra quello una squadra di calcio deve badare a tantissime cose perché il celsi per esempio salutiamo al buon vincenzo cascione che si è appena iscritto al canale mentre stavo parlando con voi vi stavo dicendo il celsi è proprio un esempio che anche se dell'aurentis esce pazzo a gennaio e spende gli 80 milioni che ha di bilancio in attivo ai 154 milioni di fondo esce pazzo dice ma vi faccio vedere io li spendo tutti sul mercato probabilmente non si cambia niente quindi ragazzi ora facciamo il nostro dovere mettiamoci vicino alla squadra evitiamo di essere anche noi una piccola parte di problema e diamo fiducia a tutti in cui questo è il mio consiglio consiglio di natale poi a natale si è anche tutti più buoni questo è il mio consiglio ragazzi proviamo a fare così almeno facciamo la nostra parte quella di essere vicino alla squadra al di là del risultato quando si vince è bello ma quando si perde quanto è ancora più bello fare il tifoso al di là delle cose che non ci piacciono e lo diciamo perché lo possiamo dire però poi abbracciamoci che napoli e mamma mamma è la cosa più bella che a te voglio un bacione forte vi auguro una buona vigilia e vi do appuntamento a domani per darvi gli auguri di natale come al solito un altro contenuto non so se l'analisi tattica già magari sa però domani ci vediamo un bacio e un abbraccio da sasà e sempre forza napoli ciao 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 ciao